Ieri sera dopo le 21 a Fano è scattato il piano di ricerca persona scomparsa. Unità della Polizia di Stato, del Commissariato, unitamente ai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco hanno ricercato un uomo di origini extracomunitarie di 80 anni che si era allontanato nel quartiere di Sant'Orso dove si trovava in bicicletta assieme ai familiari facendo perdere le sue tracce. A dare l'allarme la figlia che si trovava con lui e che lo ha perso di vista per alcuni istanti che alle 20, non vedendolo rincasare, ha composto il 113, conscia anche dei vuoti di memoria di cui l'anziano padre soffre che potevano avergli fatto perdere l'orientamento. Immediate le ricerche in diverse zone di Fano alle quali hanno partecipato tre squadre con diversi mezzi della protezione civile del CB Club Mattei di Saverio Olivi che ha messo in campo anche le due unità cinofile per rintracciare eventuali tracce organiche dell'ottantenne scomparso. Scandagliato palmo a palmo anche il lungo canale vicino al quartiere di Sant'Orso alla ricerca della bicicletta dell'anziano per trovare un'eventuale traccia del suo passaggio. Diverse le zone della città setacciate dagli uomini del commissariato seguiti nelle ricerche dal dirigente Stefano Seretti e dai carabinieri della compagnia affanese agli ordini del comandante Alfonso Falcucci anche nella zona mare e nell'immediata periferia. Ricerche che sono andate avanti fino alle prime luci dell'alba di oggi per poi, dopo una breve pausa, essere riprese poco dopo le 8. Una telefonata questa mattina fortunatamente però ha posto fine all'angosciante attesa dei parenti. L'uomo, utilizzando un cellulare di un passante, ha chiamato la famiglia verso le 10.30 di questa mattina. Stava bene e si trovava nella stazione di Ancona dove sembrerebbe essere arrivato salendo su di un treno con la bicicletta al seguito. Avvertita immediatamente la polferra di Ancona dal commissariato di Fano che lo ha preso in carico fino all'arrivo dei parenti che lo hanno potuto così riportare a casa.